Bentornati su Notizie Gossip. Se non siete iscritti 6 invitiamo a farlo per restare sempre aggiornati. Notiziona Gossip tutta per voi. Partiamo! Pamela Prati sorprende i follower con un nuovo misterioso compagno. Il fantasma del presunto fidanzato Marco Tadjewany torna a farsi sentire. Il cuore della showgirl sembra battere di nuovo, dopo la breve relazione con Marco Bellavia, interrotta da una foto che ha rivelato la fine del loro rapporto. Pamela Prati si mostra sui social con un uomo di cui nasconde l'identità, ripreso di spalle. La didascalia dell'immagine recita. Ho sognato di te come si sogna della rosa e del vento. Camminano insieme, braccio nella braccio, durante una passeggiata notturna. I follower reagiscono immediatamente, ironizzando sul post che sembra annunciare una nuova storia d'amore. La mente va subito al caso dell'enigmatico Marco Tadjewany, l'imprenditore introvabile che per mesi è stato presentato come fidanzato e futuro sposo di Pamela, finché non è emerso che non era mai esistito. Casualmente di spalle. Questo finto e forzato mistero è imbarazzante. Scrive qualcuno. Speriamo che questa volta sia quella giusta. Commenta un altro. Un utente chiede se stavolta l'uomo sia reale, ottenendo una risposta ironica da parte di Pamela. Se mette gli occhiali, vede meglio, accompagnata da un emoji a forma di cuore. Tuttavia, non mancano i messaggi di auguri per una felicità duratura accanto a quest'uomo misterioso. Ti auguro che questa intensità meravigliosa ti renda felice. Commenta qualcuno. Ricevendo un sincero ringraziamento dalla showgirl, ora si attende di scoprire l'identità dell'uomo che, finalmente, ha ridato il sorriso a Pamela. Cosa pensate di questa storia? Sarà vero questo nuovo amore? Fateci sapere nei commenti e lasciate un mi piace al video.